si penna, poi è a disposizione di Shields che vede il campo abbastanza aperto, attacca l'area movimento principesco, va diligentemente dentro, ora Gentile anticipa Shields Di Leni invece gioca a due, poi prova a servire Tarczewski attacco milanese, ora la porta in giro Rodriguez che poi alla fine va da Shields che è libero sul perimetro Rodriguez dopo la ricezione parte con la tripla ci vuole una morbidezza irreale, qui grande difesa con sedia tolta, Katic non riesce nell'agguato e poi fischio per il fallo contro l'Idei un tiro può sempre entrare come diceva qualcuno, in questo caso è stato un detto veramente perfetto qui Zuckley Day rimessa in emergenza, Bilan arriva ancora come un cobra, Shields, poi in campo aperto e Di Leni aspetta il blocco di Tarczewski, ecco il due contro uno, ecco il terzo uomo e mezzo, fai una grande tripla che crea una superiorità numerica, non immediata, c'è l'Idei contro Spesu e alla fine c'è poco da fare uscita di Shields, piedi a posto, tripla per aria e a bersaglio, Shevon Shields per Marco Spesu, Shields, ottimo ribaltamento, Di Leni da tre, fondamentale 11 a 7 il parziale di terzo quarto e allora torna al lavoro chiaramente era Di Leni per Beliga che non è chiaramente l'Idei l'Idei è questo e guardate che razza di movimento le braccia dei suoi compagni in panchina per salvare un pallone poi fucilata per Moraschini che parte, si ferma, trova l'Idei che arriva a 19 solitamente in queste situazioni il Ciaccio è un brutto cliente ovviamente, anche stavolta risponde appunto il match anche se Rodriguez accelera, scarica, Beliga, piedi a posto ottimo lavoro, due attacchi Milano ecco il primo, direi ad alta qualità con Rodriguez che sforna l'assist pazzesca la partita, è cambiata completamente 9 a 0, Banco di Sardegna l'Idei risponde finta di tripla, manda via Bilan poi nell'angolo l'Idei, finta, piedi a posto e tripla ancora sac l'Idei, Mestalì, Gentile, l'arma bianca cancellato da un super B-Liga che arriva dal nulla, poi Rodriguez, superiorità numerica l'ultimo uomo da coprire, Schinz non può arrivare Gentile adesso cerca gli ultimi colpi al cuore Rodriguez a 3 7-6-6-2 gestire il ritmo e il pallone porta spasso tutta la difesa regala 8 metri di spazio a B-Liga Messe per Rodriguez, gira l'angolo Midov sbaglia l'appoggio, ma B-Liga è andato in archivio dopo 3 sconfitte consecutive torna a successo Marmone Exchange a B-Liga a B-Liga Grazie a tutti